Quest'anno ci sarà anche un'attenzione per evitare gli assembramenti, le persone verranno accompagnate e verrà verificata la distanza che esse dovranno tenere tra di loro. Ronde anti-assembramenti nei cimiteri per evitare la diffusione del contagio. Sono quelle predisposte dal sindaco di Zero Branco con il supporto delle associazioni combattentistiche e il volontariato della zona. Oggi l'ultimo incontro preparatorio e operativo all'esterno del camposanto del capoluogo con il responsabile della protezione civile e i rappresentanti degli alpini e dei carabinieri in congedo. Tre i cimiteri sorvegliati con ordini ben precisi in caso di infrazione delle regole. Dare i macchini spacchi e macchine perché il rompe è la roba più importante adesso come adesso è il discorso che la gente non fasse assembramento. Noi diciamo da guardare solamente che sia che roba. Adriano, tu sai che noi altri abbiamo un compito di sorveglianza. Se uno fa il bauco o se uno si comporta mai ti teciapi chi di dovere. Senza fare questione, senza fare questione. Esatto. Allora siamo di supporto alle istituzioni. Sottolineature importanti in tema ronde considerando che i controlli non saranno solo all'esterno dei cimiteri ma anche tra le tombe oltre che sui parcheggi per garantire che i cittadini possano recarsi in sicurezza e in tranquillità dei propri cari. Noi non faremo, non siamo qui per fare i poliziotti o per evitare che le persone si parlino o si salutino. Semplicemente però vogliamo dare un po' di tranquillità a tutti quanti di potersi avvicinare ai propri cari e alle proprie tombe. Se ci fossero anche parenti che si ritrovano attorno alla tomba non sarebbe un problema, non è un problema. L'importante è che però si ricordino quelle che sono le regole che ormai abbiamo imparato purtroppo a rispettare e a conoscere.